Ciao a tutti, sono Camilla Petroni, frequento l'Istituto Modatech di Ponte d'Era, sono studentessa di Fashion Designer e ho 22 anni. La cosa che mi ha spinto a studiare l'Istituto Modatech di Ponte d'Era è che è una realtà molto consolidata nel nostro territorio, che ci interfaccia con le grandi aziende in tutto il mondo. Durante questi tre anni nel mio percorso ho imparato tutte le varie fasi del lavoro, quindi dall'idea alla produzione finale e questo mi ha aiutato in aziende appunto perché ho avuto ben chiaro la tipologia di lavorazione che c'è dietro ogni capo. La curiosità e quindi la voglia di ampliare le nostre conoscenze per quello che facciamo e la capacità di lavorare in team working perché in una realtà aziendale è molto importante per appunto ottenere un ottimo risultato. Allora, attualmente sono in stage da Irmanno a Cerdino, dove mi occupo nell'ufficio stile della ricerca del tessuto.